Il risultato di 0-0, intanto è Bergkamp che ha subito fallo dall'Ainer, interrompe in gioco l'arbitro Jengsen danese, comanda il calcio di punizione, batte Sosa. E il pallone termina il gol, gol di Berti, Berti ha segnato per l'Inter al 35esimo del primo tempo, gol di Nicola Berti, vedete a girare da posizione angolata in rete, un pallone che il potere Conrad non riesce a controllare, rivediamo ancora il buon controllo di Bergkamp che resiste all'attacco dell'avversario e batte sul palo più lontano, fuori dalla portata del portiere Conrad, Inter in vantaggio al 35esimo.